Forte di fortezza sede dell'Infopoint della BBTSE, la società europea di progetto che realizza la galleria di base del Brennero. Sesta edizione della giornata formativa dedicata all'approfondimento di aspetti tecnici, gestionali, giuridici e amministrativi che consentono di evolvere la conoscenza nel settore dell'ingegneria e di aprire quindi delle finestre anche su campi scientifici diversi da questo. Ospite d'eccezione il professor Guido Tonelli, fisico e professore all'Università di Pisa, eccellenza della ricerca scientifica italiana e mondiale, salito alla ribalta delle cronache per l'annuncio della scoperta del cosiddetto bosone di Higgs, una super particella all'origine del nostro universo. Lo scopo in realtà di questa mia chiacchierata alla fine di una giornata densa di progetti, di discussioni su questa impresa di costruire questo tunnel ferroviario così ambizioso è quello di rinfrescare, cioè parlare di cose talmente distanti dalla vita quotidiana di ingegneri e tecnici che lavorano qui da costruire una visione diciamo del tutto diversa del mondo e delle cose. Come ha sottolineato l'amministratore italiano di BBTS e Raffaele Zurlo, la società è convinta che la realizzazione di grandi opere infrastrutturali quali la galleria ferroviaria di base del Brennero costituisca un'occasione da non perdere per compiere attività di studio, formazione e ricerca. Ci siamo lasciati guidare dal professor Tonelli, dal professor Guido Tonelli, lo scopritore del bosone di Higgs in un viaggio virtuale nello spazio e nel tempo alla ricerca delle origini del nostro universo. Il viaggio è stato un viaggio particolarmente affascinante, particolarmente interessante, direi che ho notato in tutti i partecipanti un vivo interesse per le problematiche trattate dal professor Tonelli e il livello delle domande che sono state poste al termine della conferenza del professor Tonelli dimostrano che realmente c'è stato un grande interesse da parte di tutti. In un intervento di circa due ore il professor Tonelli ha descritto i contenuti delle proprie scoperte e il loro significato ai fini della comprensione della nascita e dell'evoluzione dell'universo. Qui si sta facendo un'infrastruttura decisiva per collegare l'Europa, per avere corridoi che permettono a popoli diversi e separati di essere sempre più vicini, permettono gli spostamenti delle persone. L'Europa sta diventando una zona del mondo moderna proprio perché le sue infrastrutture stanno seguendo il passo dell'innovazione e l'Italia sta facendo passi da gigante nel mettersi al passo di questa innovazione. Quindi quello che sta succedendo qui avrà una ricaduta positiva sui nostri figli, sui nostri nipoti. BBTSE promuove e incoraggia la collaborazione con istituti universitari di qualsiasi paese ed ospita ogni anno numerosi studenti e laureati per periodi di tirocinio presso la società di durata variabile tra quattro settimane e sei mesi. È importante che anche chi lavora nell'ambito dell'opera Ferrovia del Tunnel del Brennero comprenda quanto questa opera è importante per connettere l'Europa al Mediterraneo e quindi questa idea della connessione, connettere l'Italia e connettere l'Europa è un concetto che è sempre bene trasferire a tutti. L'attività di BBT è sempre più radicata sul territorio come confermano le oltre 30 tesi di laurea o di master post laurea, quattro tesi di dottorato redatte tutte da studenti di diverse nazionalità su aspetti relativi alla galleria di base del Brennero. L'intervento di oggi pomeriggio, molto trasversale, molto aperto, fa capire che una popolazione di azienda deve ragionare anche su temi più alti, bisogna dare dei momenti in cui si ampia lo sguardo, ritornano sempre, in qualche modo ritornano. La giornata di formazione ha visto la partecipazione di veri esperti a livello internazionale in tema di grandi opere. Innanzitutto è un'opera fondamentale per collegare l'Europa al resto d'Italia, quindi un'opera strategica per tutto il paese, anche sotto l'aspetto ingegneristico, perché l'esperienza che si sta facendo qui al Brennero sicuramente verrà utile adesso che faremo opere leggermente più piccole ma analoghe per importanza nell'attraversamento dell'Appennino. Nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro nel solo 2017 ben 30 studenti delle scuole medie e superiori hanno trascorso periodi di stage formativi. Anche la formazione interna riveste un ruolo fondamentale nelle politiche di BBT. La giornata formativa è infatti già arrivata alla sua sesta edizione.